ciao a tutti benvenuti o bentornati continua la serie poca spesa tanta resa una serie di video che potete trovare sul mio canale e in questo video propongo un chatterbait il chatterbait è un'esca da utilizzare da inizio stagione quindi fino inverno inizio primavera durante tutta la stagione estiva e anche in autunno ad inizio stagione il bus tende a spostarsi in acque più basse nelle sue finestre di attività per potersi alimentare quindi è più attivo ed è più propenso ad essere interessato a questo tipo di esche che è un'esca di movimento un'esca direzione che oltre a muoversi emette vibrazioni e il chatterbait è un'ottima esca da essere utilizzata dai primi strati d'acqua fino a un paio di metri di profondità l'esca in questione è di savage gear ed è il crazy swim jig da non confondere con gli swimming jig veri e propri di cui potete trovare un video sul mio canale ma è a tutti gli effetti un chatterbait i prezzi più bassi a cui è proposto ho visto che sono tra i 6 euro e mezzo ai 7 euro e mezzo vediamo da vicino questa esca anche dando qualche informazione di base a chi non avesse mai visto un chatterbait esca che ho provato che funziona bene e piace anche i pesci il chatterbait ha un corpo costituito da un gonnellino tipo jig montato su una testa piombata a damo o singolo e una palettina che è la chiave del suo movimento durante il recupero e in questi modelli si vede anche il trailer ovvero la gomma che completa il corpo dell'esca un punto a favore di questo modello di questa marca è che viene venduto già assemblato con il suo trailer adeguato sia per dimensioni che per colore e per movimento la maggior parte di queste esche viene venduta senza montare un trailer di dimensioni adeguate è molto importante per l'armonia di movimento dell'esca sono disponibili 3 grammature 8 grammi e mezzo per una lunghezza di 10 centimetri 14 grammi e 20 grammi con una lunghezza di 12 centimetri nello specifico questi modelli in video sono i 14 grammi da 12 centimetri a mio parere manca il classico 3 ottavi quindi 10 grammi e mezzo io consiglio la misura intermedia questa da 14 grammi perché ha una buona lanciabilità riusciamo a pescare anche diversi strati d'acqua ed ha un ottimo movimento in rapporto al volume dell'esca e alle sue dimensioni è costruito con componenti di qualità come l'acciaio inox per la paletta e il braccetto di collegamento e anche il trailer holder che non è nient'altro che questo gancettino che si vede in semi trasparenza e che permette il solido montaggio del trailer sul lamo quindi garantisce una grande stabilità del trailer anche con lanci molto forzati e una buona stabilità anche dopo diverse mangiate di diversi pesci entrambi i miei due modelli non hanno nessun segno di ruggine dopo diversi utilizzi e dopo essere stati riposti nelle loro scatole nell'insieme un'esca compatta a favore di una presentazione adatta anche a pesci più pressati e nonostante il gonnellino non sia tra i più voluminosi rende assolutamente armonioso tutto il movimento ha ottime capacità antincaglio infatti l'amo in posizione di nuoto è con la punta rivolta verso l'alto e la palettina lo protegge in quanto il filo viene legato in questa posizione da questo lato dell'anellino per cui durante il nuoto la punta dell'amo è protetta quindi può essere utilizzato anche su cover o in generale sullo sporco qualche consiglio di utilizzo partiamo dal fatto che un'esca di movimento che grazie alla paletta non solo si muove ma emette anche un certo numero di vibrazioni quindi un'esca di ricerca adatta anche ad acque non limpide è molto buono in spot con cover o al di sopra di airby dove magari il bass si può nascondere e può essere richiamato prima dalle vibrazioni dell'esca e successivamente dal richiamo visivo del suo movimento scende bene in mezzo ai rami grazie alle sue proprietà antincaglio e lavora bene anche in mezzo a canneti o a erbe o a vegetazione affiorante è un'esca che va già bene così ma eventualmente si può rendere più voluminoso il corpo cambiando il trailer cambiando la forma del trailer o anche creando un contrasto maggiore con il connellino cambiando il colore del trailer 4 le colorazioni proposte rosso nero bianco bianco chartreuse e un green pumpkin a mia parere manca il sempre valido nero e blu e una colorazione tipo shad quindi una colorazione molto naturale attrezzatura che consiglio una canna da casting o spinning a sette piedi o anche qualcosa di più per raggiungere buona distanza di lancio e quindi coprire molta acqua con un'esca di ricerca ad azione non troppo morbida perché comunque sto pescando con un'esca mono amo ed è sempre una buona cosa dare una buona ferrata con questo tipo di esche e con una buona schiena quindi una buona potenza per poter gestire il pesce anche in ambienti sporchi quindi ad esempio una canna di tipo medium fast 5 ottavi o medium ivi fast a tre quarti può essere la scelta giusta mulinello con rapporto di recupero standard da 6 a 7 a 1 caricato con nylon io consiglio nylon perché è più elastico del fluorocarbon e ovviamente anche più elastico della treccia perché aiuta comunque ad assecondare la mangiata e la boccata del pesce durante il recupero continuo bene fatemi sapere se lo utilizzate se vi ha dato risultati per questo video è tutto vi ringrazio per la visione e rimanete su go fishing per poca spesa tanta resa alla prossima ciao ciao